salve a tutti ragazzi e ben ritornati alle meraviglie del cinema volume numero 3 non sarò da solo in questo viaggio ho voluto includere da qui fino alla chiusura del volume 6 la vincitrice dei cine duellanti giulia calvani che interverrà prontamente sui suoi film preferiti ci dobbiamo occupare ora di descrivere un decennio particolare dal 1950 al 59 dove il cinema stava risalendo alla ribalta anche in altre parti del mondo dall'ascesa del giappone fino alla riaffermazione della francia con nuovi stimoli intellettuali i film cominciarono ad assumere una struttura più libera da preconcetti eliminando persino epiteti razziali introducendo riferimenti a droghe prostituzione e aborti grandi ambizioni accecano i nostri spiriti critici e non possiamo fare altro che ammirare stupefatti le strabilianti produzioni di metà secolo cominciando con Rashomon 1950 Akira Kurosawa lo stupro di una donna la morte del marito samurai e quattro testimoni oculari chiamati a presentarci una verità confusa una intricata narrazione che fa della frammentarietà il suo cavallo di battaglia Rashomon presenta sospettati e prove stimola gli spettatori e li intinge in un giallo reinventato Kurosawa non è interessato alla verità in sé ma cerca di porre l'accento sul relativismo dei punti di vista dei protagonisti girato in uno stile semplice e austero Rashomon ci porta con mano in un regno in cui nulla è ciò che sembra e in cui non ci si può fidare di nessuno ci ritroviamo lontano dalla realtà persi nella dimensione del subconscio freudiano nel ripetersi della morte del samurai la trama principale subisce una scissione fra presente e passato reso dai continui flashback nel film inoltre sono presenti numerose immagini simboliche ad esempio la porta proibita e la radura riprese da storie folcloristiche la pellicola ha avuto un notevole successo in tutto il mondo influenzando il linguaggio mediante l'espressione effetto Rashomon la quale definisce una situazione in cui non è possibile concordare sui fatti accaduti e la verità rimane inaccessibile possiamo solo in questo caso abbellire le storie sui noi stessi ciao antonio e ciao a tutti voi amici e amiche del raccatta film oggi parliamo di sunset boulevard conosciuto come viale del tramonto il film noir diretto da billy wilder nel 1950 gloria swanson è magistrale nel ruolo di norma desmond icona del cinema muto che lo studio system sembra ormai aver dimenticato con l'avvento del sonoro infatti il cinema si affranca dalla potenza espressiva dei volti per dedicarsi alla pervasività della parola e abbandona quegli ex divi del muto un tempo acclamati come semi dei e oggi ridotti a dei relitti animati dal solo ricordo mascherato dalla straniante nostalgia per un epoca d'oro del cinema conosciuta amata e ora persa il regista offre un'amara e serrata critica al divismo tremens et fascinans ne esalta la grandezza e ne ritrae gli orrori norma desmond percorre il suo viale del tramonto beatificata dal suo occhio di bue che ne illumina il declino e si prepara a tornare sulla scena nel ricordo e derisa da questo nuovo mondo il destino a volte è stranamente generoso e nella tragicità degli eventi l'artista riesce a dare vita al suo film a dare alla luce il suo viale del tramonto nell'ultimo atto i suoi occhi sono solamente per il grande pubblico al di là dello schermo in un ultimo sguardo muto le luci si abbassano il sipario si alza e in questa dimensione onirica le mani danzanti di norma desmond accompagnano il volto della diva alla luce del suo tramonto eccomi de mille sono pronta per il mio primo piano cantando sotto la pioggia 1952 jean kelly stanley donen un musical imperdibile molti cineasti hanno attinto dalle esperienze personali per realizzare satire sugli studios che soffocano la creatività sull'influenza negativa della fame del denaro e sui compromessi per la carriera l'approccio di cantando sotto la pioggia è molto meno duro nonostante la decadenza e le eccentricità hollywood appare come un luogo in cui il talento può emergere e il film rimane ancora oggi uno dei migliori esempi che giustificano tale ottimismo colmo di creatività inventiva dopo oltre 60 anni conserva pieno la capacità di ispirare e divertire dal tramonto dell'epoca del muto il film sfrutta il contesto storico per portare un po di gioia nelle nostre vite noiose la visione esemplare e ottimistica del film suggerisce che il percorso per trovare il proprio sé creativo è lungo e difficile ma il talento e la determinazione portano al mondo a cui si appartiene cantando sotto la pioggia osserva la propria arte con autoironia presenta diversi numeri indimenticabili ma soprattutto parla ad un fascino senza tempo la celebrazione e la forza del singolo contro i cambiamenti del tempo una forza che a detta del duo di registi kelly e donen prevarrà sempre godzilla 1954 ishi ronda un film a basso costo in cui una lucertola gigante attacca tokyo dall'oceano pacifico poteva rischiare di passare inosservato dato l'incipit ma nonostante la goffaggine di effetti speciali nel 1954 il mostro ebbe un impatto enorme sul pubblico l'utilizzo della creatura è da studiare in tutte le sue dinamiche resta per lo più nell'ombra una minaccia indistinta ma le immagini sgranate in bianco e nero ricordano in modo agghiacciante le riprese del cinegiornale dell'agosto 1945 quando alla fine del conflitto mondiale le bombe atomiche furono sganciate sul giappone onda fa un uso audace delle immagini strappate dalla memoria recente del paese addirittura rievocando l'impatto delle bombe esplosioni incandescenti che trasformano la notte in giorno il tutto mentre le strade si sgretolano e gli abitanti di tokyo si rifugiano in bunker di cemento non manca certamente una steccata furente nei confronti dell'essere umano flebile e guerrafondaio amante della natura per il regista ishiro onda il mostro è la vendetta della terra contro una scienza irrispettosa dell'ambiente una pellicola questa che rompe le barriere dell'arte per porci domande sconvolgenti e ammonirci sul futuro preannuncia un filone commerciale ma anche racconti molto ricchi di etica il monster movie riemerge dopo king kong e diventa genere che segnerà profondamente la storia del cinema mondiale di fantascienza un bacio e una pistola 1955 robert aldrich attraverso il genere palpa poliziesco questo grandioso film esplora l'atmosfera di paura e paranoia diffusa negli stati uniti degli anni 50 si prendono in considerazione i romanzi popolari del malvagio investigatore privato di los angeles mike hammer per catapultarci nei meandri del genere con l'aggiunta di un sinistro tocco di fantascienza non si può rivelare il terribile segreto della misteriosa bionda cristina belli interpretata da cloris lichman e prega mike hammer di dimenticare di averla incontrata lo spettatore d'altro canto non può dimenticare nulla di ciò a cui ha assistito si gioca tantissimo con la prospettiva le false piste il film inizia con una fuga spericolata e si trasforma in una ricerca la ricerca di una cosa una scatola nera scatola calda al tatto che non deve essere aperta per nessuna ragione al mondo il nichilismo paranoico della fantascienza degli anni 50 si sovrappone al noir al posto di un gioiello prezioso una statuetta perduta i delinquenti pulp combattono per un'arma apocalittica nonostante la desolazione un bacio una pistola è appassionante con dialoghi taglienti e sempre pronti a non rivelare i cambi di registro le aspettative giocano un ruolo fondamentale per fondare le basi di un labirintico titolo a scompartimenti da tenere sotto osservazione sotto custodia per garantire l'impatto sconvolgente è un film formidabile capace di attraversare tante sfumature e di creare solo alla fine nello spettatore la rivelazione definitiva ma anche la sensazione di avidità e di corruzione del potere umano quanti in tarantino deve molto a questo tipo di cinema che si ritaglierà un posto speciale nella nostra era post moderna e passiamo al settimo sigillo 1957 ingmar bergman la storia di un cavaliere che al ritorno dalle crociate trova la sua terra natale devastata dalla peste una crisi di fede è al centro del racconto mentre la morte in persona segue il cavaliere antonius bloc il compianto max von sido si dà dunque inizio ad una partita scacchi fra il serio e il faceto dove bisogna vincere per vivere questa immagine in particolare è diventata una tra le più iconiche e imitate della storia del cinema l'intero film è uno schizzo monocromatico in cui l'assenza di colore simboleggia l'assenza di dio nel mondo del settimo sigillo vita e vitalità sono prosciugate l'acqua è grigia e il cielo è macchiato da nuvole scure sono frammenti cupi e austeri unite all'ossessione per l'allegoria biblica con il titolo del film che si rifà al libro dell'apocalisse ingmar bergman introduce il pubblico a film inevitabilmente cupi dove si affrontano i conflitti più grandi e profondi dell'esistenza umana follie sanità mentale morte vita e di rado lo spirito umano trionfa in queste battaglie specialmente questo pezzo da 90 si addentra nell'anima e nella dannazione evidenziando la relazione masochistica dell'uomo con il creatore e con l'assoluto deserto che ci attende alla fine della strada vi è anche un tocco di comicità macabra rottesca che impreziosisce una condizione guidata dalla grande falciatrice tanto alla fine risposte vere e proprie non esistono sembra dire bergman la sua narrazione asciutta lascia a ciascuno di noi il compito di dire la nostra di farci un'opinione e si fida abbastanza della nostra intelligenza da non forzare nessun messaggio preciso su di noi la donna che visse due volte 1958 alfred hitchcock un gioco complesso che ritrae il beniamino di hitchcock james stewart dopo la finestra sul cortile e l'uomo che sapeva troppo in un vortice destabilizzante che lo porterà alla pazzia e all'ossessione per una misteriosa donna kim novak questa attrice folgorante kim novak è una maledizione che distorce il girato e l'equilibrio morale del protagonista in questo film l'antagonismo si fa visivo si elimina tutto ciò che rende un individuo vivo e umano per entrare in una dimensione altra nel continuare a dannarsi per trovare le esatte sfumature di grigio il poliziotto in pensione john ferguson james stewart viene manipolato per cadere nell'oblio è il tema cardine dei film di hitchcock la stella caduta il concetto di star del cinema che influenza la narrazione l'immagine di james stewart è quella di un uomo per bene incorruttibile che normalmente piace a tutti ma qui diventa un disperato rovinato dall'ossessione sessuale e dalla tragedia attraverso questa trasformazione hitchcock non solo annulla un uomo ma anche una icona del grande schermo la donna che visse due volte è un thriller realizzato con assoluta maestria con prospettive contorte hitchcock qui cerca una forma più intensa di terrore senza obblighi verso hollywood non vuole solo creare shock repulsione turbamento ma sconvolgere gli spettatori corrompendo tutto ciò che pensano di sapere sul suo stile cinematografico per rivelare qualcosa di nuovo e diabolicamente architettato insomma con questa visione straordinaria il coltello viene girato un po più a fondo e non poteva non comparire in un volume delle meraviglie del cinema per poi finire il decennio con i 400 colpi 1959 françois truffo il coraggioso critico cinematografico pioniere della politica degli autori utilizza la cinepresa come penna per tracciare il sentiero del cinema verità nel film si descrive la ribellione giovanile in una semi autobiografia graffiante ed energica con le angosce del caso le incertezze e un misto di gioia e crudeltà truffo diventa antoin doniel un ragazzo turbolento che distorce sempre i fatti mento mento ogni tanto si spesso se dicevo la verità non mi credevano ed ecco che usano i sentimenti i pensieri come cassa di risonanza per esprimere le proprie emozioni truffo in particolare congela le immagini ed effettua zoom sui volti deve concentrare gli sforzi nel ricreare una condizione di prigionia ma la fuga è ben visibile molto chiara ci intrufoliamo nel cinema ogni volta che si può per perdersi nell'oscurità della platea e delle immagini su schermo proprio come faceva il giovane truffo è in momenti come questi che la vita del personaggio si intreccia con quella del suo creatore la sensazione costante è che il regista stia cercando di esplorare ed esorcizzare il proprio passato ridefinendo inquadrature per dare un senso a se stesso è un rapporto del tutto inedito assolutamente credibile figlio di un movimento impetuoso la novel bug che si affida alla verità e alla fuga per illuminarci meglio dei crudi e nudi fatti oggettivi il 400 colpi è un film importantissimo per la storia del cinema basato quasi sempre sulla spontaneità e sull'improvvisazione proprio come critica feroce verso i grandi e la loro rigidità mancanza di fantasia e flessibilità estrapolare qualche inquadratura o qualche scena è quasi insultare l'opera nel suo complesso quindi lasciamolo intatto come l'abbiamo trovato altri otto titoli del cuore che hanno rappresentato un punto di svolta nella metà del secolo scorso sono stati rilasciati sul canale speriamo di avervi intrattenuti a dovere intervenite con un like di passaggio o sotto nei commenti vi aspettiamo continueremo certamente con le influenze le conseguenze della nuova ondata del cinema francese per poi nominare due grandi leggendari registi che non possono non mancare l'appuntamento del volume 4 delle meraviglie del cinema attendete fiduciosi intanto un saluto ai miei carissimi seguaci della catafilm un caloroso abbraccio ciao alla prossima